Cari amici, siete pronti per immergervi, in un viaggio emozionante, nel capitolo 215 della Promessa? Nel nostro coinvolgente video di oggi, vi condurremo attraverso gli intricati dettagli della trama, esplorando il tentativo di Petra, di sabotare Feliciano, la sfida coraggiosa di Catalina alla Marchesa, durante una festa, e l'annuncio straziante di Candela, riguardo a una partenza destinata a lasciare il cuore di tutti sospeso nell'incertezza. L'emozione è alle stelle, e vi invitiamo a iscrivervi ora per non perdere neanche un singolo frammento di questa avvincente narrazione. Dall'intrigo fitto alle esaltanti celebrazioni, questo capitolo è un viaggio ricco di sorprese sul canale Serie TV Turche, studiato per voi, che faranno palpitate le vostre emozioni. Continuate a seguirci mentre riveliamo dettagli e segreti, che cambieranno irrimediabilmente il destino della storia, offrendovi un'esperienza coinvolgente nel magico mondo delle serie TV turche. Il nostro racconto prende il via con Pelaio e Catalina, la cui ansia per l'arrivo del camion carico di donne che li aiuteranno, e marmellate è palpabile. Tuttavia, un imprevisto agita i loro piani, generando preoccupazioni che si riflettono nel frenetico cortile, dove vengono assegnati compiti a tutte le donne coinvolte. Sebbene il business sembri procedere a gonfie vele, prima di congedarsi, Dona Mercedes, la duchessa degli infantes, si saluta con la marchesa e sua figlia. Dona Cruz, con rassicurante calma, esorta Dona Mercedes a partire tranquilla, sicura che la sua ragazza sia in mani affidabili. Ma l'intrigo non si placa qui. Dona Mercedes insiste affinché la figlia continui a pagare il sovratempo al dottor Bueno, ritenendo essenziale avere un medico di fiducia a disposizione. Mentre le tensioni si accumulano, giù nelle cucine, Lope condivide con Simona e Candela il successo delle marmellate cucinate dalle donne del villaggio. Ma le sorprese non finiscono qui. Catalina vuole celebrare con tutte le donne e coloro che hanno lavorato instancabilmente per il successo dell'impresa. Siete già presi dall'atmosfera intensa? Continuate a leggere perché il nostro viaggio attraverso il capitolo 215 della promessa è solo all'inizio. E ricordatevi, iscrivendovi ora, non perderete mai più l'intensità di questa avvincente trama. Siamo nel cuore della trama, dove i destini si intrecciano e si svelano segreti che cambieranno tutto. Quindi, stringetevi forte, perché il viaggio sta per diventare ancora più avvincente. In questo momento cruciale, Dona Mercedes insiste con sua figlia, spronandola a continuare a pagare il sovratempo al dottor Bueno. Perché? Perché avere un medico di fiducia è essenziale. E Abel, con la sua mancanza di scrupoli, sembra il candidato perfetto. Ma c'è di più, amici. Nelle cucine, l'atmosfera è carica di eccitazione. Lope, con occhi scintillanti, rivela a Simona e Candela il successo delle marmellate preparate dalle donne del villaggio. Ma questo è solo l'inizio. La nostra instancabile signorina Catalina vuole festeggiare con tutte le donne e coloro che hanno contribuito a rendere questo progetto un successo. Le cuoche, allora, organizzano un angolo speciale per brindare tutti insieme alla prosperità di questo affare. E c'è un piccolo dettaglio intrigante. Sembra che le cuoche abbiano notato qualcosa tra la signorina Catalina e il conte di Anil. Che mistero si cela dietro quegli sguardi appassionati? Nel bucolico giardino, Manuel, triste e pensieroso, stringe tra le mani un sonaglio d'argento. Ma l'atmosfera cambia quando appare sua moglie, Lady and Busts. Le parole si fanno intense, con accenni a sensazioni di colpa e perdite. Un momento carico di emozioni che getta luce sulla complessità delle relazioni. Nel frattempo, Manuel si avventura nel misterioso passato, incontrando Romulo. Le condoglianze per la perdita del suo non ancora nato figlio si trasformano in una ricerca di verità. Cosa si nasconde dietro la relazione tra sua madre, Donna Cruz, e Ramona? Segreti che risalgono al passato. Intrighi e misteri si intrecciano ancora di più quando Romulo rivela i legami affettivi tra Dolores, madre di Anne, e la precedente Marchesa, madre di Catalina. Nelle stanze nobili della promessa, Catalina e il conte di Anil sono impegnati nella preparazione delle scatole di marmellata. Un'atmosfera carica di anticipazione. Hanno tutto pronto per il viaggio del camion verso Madrid. Ma attenzione, perché le cuoche emergono con un antipasto speciale proprio quando il camion parte, scatenando applausi e festeggiamenti. Petra osserva la scena con un'espressione maliziosa e poi va a avvertire Donna Cruz. Quando iniziano a festeggiare, la signorina Catalina ringrazia Lope Ruiz perché l'idea delle marmellate è stata sua. Ringrazia anche le cuoche e le donne di Luian. Improvvisamente, la Marchesa arriva molto arrabbiata e rimprovera Catalina, dicendo che non è il momento di celebrare alla promesa a causa di una recente perdita. Chiede di concludere la celebrazione il prima possibile. Quando la Marchesa se ne va molto irritata, Catalina fa un brindisi per tutte loro. Nella zona di servizio, le cuoche, Maria Fernandez, Teresa, Mauro e Lope, commentano quanto sia andato bene il business delle marmellate. In quel momento, Teresa racconta loro cosa è successo con Petra e Feliciano, come Petra abbia cercato di sabotare Feliciano, ma grazie al ragazzo tutto è andato bene. Nel frattempo, nella zona nobile, la Marchesa è furiosa per quanto accaduto. Parla con suo figlio Manuel, dicendogli che ha indagato. Inoltre, rivela di sapere qual è la vera relazione tra lei e Ramona. Gli racconta che Ramona era molto amica di Dolores e gli dice che andrà a casa del figlio di Ramona per verificare se sta bene o almeno se è ancora viva. La Marchesa risponde dicendo che non sa se un giorno le perdonerà queste accuse, nonostante sia sua madre. In un'altra scena, Anna parla con la sua amica Maria Fernandez e le rimprovera di perdere qualcosa di bello portando avanti una relazione a tre tra amici. La ragazza racconta all'amica di essere consapevole di chi le piaccia tra i due, ma alla fine non dà alcun nome. Nel frattempo, di sera nel cortile, Lopez e Salvador parlano del coraggio di Feliciano nel confrontarsi con Petra. Raccontano che è andato da Don Pelaio per richiedere nuovamente il documento dell'ordine delle bottiglie, sostenendo che si era bagnato e non si poteva leggere nulla. Dopo, appare Feliciano e i ragazzi lo invitano a sedersi con loro per bere del vino. Brindano a Feliciano, che è molto contento di vedere che finalmente lo trattano bene. Dopo aver bevuto, Feliciano sale nella sua stanza e Petra lo aspetta per rimproverarlo, poiché ha fatto fallire davanti alla signora. A questo punto, Feliciano le dice che è finita, che da ora in poi non le obbedirà più in nulla. Petra piange vedendo come suo figlio sembra aver aperto gli occhi. In un'altra scena, Anna è in cucina quando arriva Abel, molto triste. Questo medico segue i consigli di Lady and Busts, facendosi passare per vittima davanti alla cameriera per cercare di ammorbidire il suo cuore. Sfruttando l'occasione, racconta anche che rimarrà alla promesa per prendersi cura di Jimena. Alla fine, Anna gli dice che non può arrendersi perché lo vede molto abbattuto, chiedendogli di non arrendersi perché hanno bisogno di lui, soprattutto Jimena. A questo punto, la coppia si scambia un bacio, sembra che i consigli di Lady and Busts abbiano funzionato. Non perderti neanche un momento di la promessa. Iscriviti al nostro canale per restare aggiornato su tutte le novità. Abel continua a seguire i consigli di Lady and Busts, facendosi passare per vittima di fronte alla cameriera nella speranza di intenerire il suo cuore. Sfruttando l'occasione, rivela anche che rimarrà alla promesa per prendersi cura di Jimena. Alla fine, Anna gli dice che non può arrendersi, perché lo vede molto abbattuto, chiedendogli di non arrendersi, poiché hanno bisogno di lui, soprattutto Jimena. Quando la coppia si scambia un bacio, sembra che i consigli di Lady and Busts abbiano sortito effetto. In un'altra scena, è giunto il momento di congedarsi da Dieguito. Tutti sono affascinati dal bambino nelle braccia di Candela. Quest'ultima approfitta della circostanza per annunciare che lascerà presto la promesa e vuole congedarsi da tutti dedicando loro belle parole uno per uno, tranne che a Petra, come ovvio. In un'altra scena, Catalina e Cruz hanno un acceso confronto davanti a suo padre, Alonso, tutto a causa delle marmellate. Alla fine, il marchese è costretto a intervenire per far smettere di litigare e chiede loro di calmarsi. 8 e 28. Poiché sta per arrivare il notaio, Cruz chiede al marito di scusarla davanti al notaio, ma dice che se ne va perché non vuole assistere a una simile farsa. Nel frattempo, nella lavanderia, Teresa sta stirando quando arriva Petra e si scontra con lei riguardo a Feliciano. Le dice che è una cattiva influenza per il ragazzo. Teresa risponde di essere felice di sentire una cosa del genere, poiché l'unica cattiva influenza per Feliciano è lei stessa. Aggiunge che lei è veleno e Feliciano è tutto il contrario, una persona molto nobile. Le chiede quindi di lasciarlo in pace. È arrivato il momento in cui Candela è pronta con le sue valigie, per lasciare la promesa per sempre, accompagnata da Simona. Entrambi si accorge che è scritta da Don Carlos. Cosa dirà la lettera? Lo scopriremo domani. In un'altra scena, quando arriva il notaio, si riuniscono Lorenzo, Margarita e il Marchese, insieme a Don Alonso. Iniziano a leggere il contratto e Margarita trova una clausola trappola, chiedendo che sia rimossa. Poi dice che è arrivato il momento di firmare. Il notaio Margarita prende una penna per farlo e qui la scena si interrompe, non si vede se firma o no. Quindi, domani scopriremo cosa diceva il maestro a Candela nella lettera e se Margarita firma o no. So cosa succederà dagli anticipi, ma non te lo dirò nel caso tu non lo sappia e voglia scoprirlo. Se ti è piaciuto questo riassunto, e vuoi rimanere sempre aggiornato sulle vicende di La Promessa, iscriviti al nostro canale. Non solo riceverai ogni settimana i riassunti più freschi, ma avrai anche accesso a contenuti esclusivi, e approfondimenti sulle tue serie preferite. Non dimenticare di lasciare un like se il video ti è piaciuto e di condividere i tuoi pensieri nei commenti sotto. La tua partecipazione, rende il nostro canale ancora più speciale. Unisciti a noi, e vivi l'emozione di La Promessa insieme. Sono tristi e piangenti quando improvvisamente arriva un ragazzo del paese con una lettera per Simona. Grazie. Grazie. Grazie.